Mi chiamo Claudio Fucardi, in mestiere faccio il regista di documentari, convention, avvestimenti, di mostre, principalmente in ultimi tempi mi occupo di grandi mostre tipo le digital exhibition o quelle situazioni a realtà immersiva. Da quello che ho sentito finora è interessante perché cerca di trasmettere alle persone che poi si trovano a operare in questo settore, e poi non sono dei veri e propri specialisti, almeno a capire quali sono le logiche, quali sono le mentalità e gli approcci che devono essere messi in atto per poter far sì che i risultati poi siano piacevoli e funzionali per chi può utilizzarli, affluirli. E' importante capire come per persone non proprio addette all'utilizzazione quotidiana della multimedialità certi argomenti siano compartimenti stagli, cioè c'è chi si occupa di progettazione elettrica per dire che non ha conoscenze, su quelle possono essere invece le esigenze audio e le esigenze della videoconiezione. Grazie a tutti.